E' stata inaugurata questa mattina nel parco della scuola media Aldo Fedeli in via Cervi a Borgo Milano la statua in terracotta che ritrae Davide Caprioli. Un segno tangibile per ricordare il giovane veronese che 40 anni fa, a soli 20 anni, rimase ucciso nella strage della stazione di Bologna. Lo ricorda così la sorella Cristina. Davide era, come dicono i suoi compagni di scuola, un ragazzo carismatico, aveva una marea di amici ed era il mio fratellone speciale. Io amavo molto mio fratello, era un po' la sua mamma, la sua sorella, lo picchiavo tanto da piccolina come tutti i fratelli e poi ci siamo veramente molto aiutati e molto amati negli anni dopo. La foto emblematica è di noi due che andiamo a sciare, perché noi andavamo con la parrocchia, con i Santi Angeli, eravamo sempre insieme a sciare. Ed era lo sport che ci accomunava più di tutti e la chitarra, e poi Davide amava la chitarra. Il busto che lo ritrae è stato donato dallo scultore bolognese Mauro Piccoli, che l'aveva conosciuto giovanissimo sulle spiagge di San Giuliano a Mare. Giovanissimo l'aveva conosciuto anche Marco Ghinelli, compagno di classe alle elementari e alle medie. Io e Davide ci siamo frequentati molto, oltre alle scuole elementari, anche alle medie e in parte anche alle superiori. Abbiamo suonato insieme in gruppi rock, come si usava a quei tempi. Davide, devo dire che era un ragazzo molto molto in gamba, quello che adesso, sdoganando la parola, è da considerarsi un figo. E soprattutto una dote che io invidiavo tantissimo a Davide, è che era molto molto coraggioso, ed era molto capace di prendere posizioni in difesa dei più deboli. Era un ragazzo veramente d'oro, sotto molti punti di vista. Quella scuola Davide l'aveva frequentata e ora la scultura, nella biblioteca che porta il suo nome, sarà un'ulteriore testimonianza della sua presenza nella vita di chi gli ha voluto bene, ma anche simbolo per una memoria collettiva che non deve mancare. La memoria, tenere costante e viva la memoria di Davide e di quello che Davide rappresenta, perché consideriamo gli 85 e le 85 vittime della strage, ma in tutte le stragi di destra e di sinistra che possono essere state, ci sono stati oltre 420 morti e dobbiamo ricordarli tutti. Davide rappresenta un po' tutte queste vittime del terrorismo. E se siamo qui è per dire no al terrorismo, è per dire riprendiamoci la cultura del rispetto, la cultura dell'amore, chiamiamola così.